Cosa mette in comune una storia di Cacioletti? Cosa mette in questo cavallo con testa, mani e cuore? Cosa può cambiare il mondo? Per me quello che ci può far vivere un poco meglio è il fatto di fare bene le cose che facciamo. La mia idea è che se tu fai una cosa, compreso fare un caciocavallo, falla bene. Se tu scrivi un libro scrivelo bene, se tu costruisci un ponte costruiscilo bene, se tu cucini la pasta e fagioli cucina bene. Questa idea di fondo di fare bene le cose perché è così che si fa, per me è un piccolo grande elemento che può cambiare i nostri modi di essere e di vivere. Da un lato, come dicono i miei amici filosofi, rendere la nostra vita più degna di essere vissuta e dall'altro lato anche farci vivere vite più interessanti, vite nelle quali abbiamo più possibilità di stabilire relazioni di qualità con gli altri. Se c'è una cosa che sanno fare bene i poeti è trovare la metafora giusta. Quindi il caciocavallo, un monumento a un caciocavallo diventa una metafora per raccontare un po' la necessità di trovare un senso in un mondo dove siamo tutto perso di senso. Quindi poi racconto questo libro di Peppe Voltarelli che parte appunto da questo monumento paradossale in realtà poi va a ricercare in tante piccole e grandi cose la nostra vita il senso ancora di poter rivedere e riscrivere delle pagine quindi degne di essere vissute. Sì, l'idea di far diventare la nostra identità monumentale in maniera surreale, forse un po' provocatoria anche, in questo atto risiede per quanto mi riguarda una forma di ribellione molto forte a quelli che sono i condizionamenti in cui ci siamo costretti a muovere. Quindi l'idea di elevare un monumento a un formaggio e farlo diventare un'opera d'arte è un atto che induce una riflessione inevitabile, almeno che consiglia una riflessione. Una riflessione sul senso, sull'importanza dei gesti semplici, elementari che sono la nostra quotidianità e che sono poi anche la nostra storia, le nostre micro relazioni familiari che se guardano in direzione della crescita qualitativa possono diventare poi anche dei piccoli esempi anche per gli altri, fare tracciare un piccolo percorso, dare, uso questa parola un po' abusata, dare anche un po' di credibilità, di fiducia, di speranza anche. So che sono parole abusate, ma sono parole in cui credo e penso che hanno una vita molto lunga e sarà difficile abbatterli in poco tempo. Quindi, del resto, queste nostre identità frammentate si ricostruiscono anche attraverso quella che è una narrazione. Quindi l'idea di fondo è quella che possiamo raccontarci in un modo diverso e quindi raccontandoci diversamente possiamo in qualche modo fare la nostra rivoluzione. Quindi, il libro di Peppe Voltarelli Il caciocavallo di bronzo, stampa alternativa, romanzo cantato e suonato E il libro Testa, mani e cuore di Vincenzo Moretti E il romanzo del lavoro ben fatto, Testa, mani e cuore, EDS Edizioni Sono un po' tra le letture che abbiamo condiviso con Nino in questi ultimi tempi Anche perché tra un lavoro fatto bene e un lavoro fatto male c'è più fatica a fare il lavoro fatto male che il lavoro fatto bene Quando facciamo un lavoro di qualità, alla fine si alza lo stato vitale nostro e alziamo lo stato vitale di tutto il mondo che ci circonda Quindi, se si deve fare la cosa, facciamolo con l'entusiasmo appunto del professore qua che ci riempie di entusiasmo Quindi, l'appuntamento è questo, è il 30 aprile Noi, quattro e tantissimi altri amici in giro per l'Italia sembrerebbe non solo, ci incontriamo, no? Il 30 aprile sera, in casa, in tanti punti per parlarci e provare a raccontare storie di lavoro viste da un altro punto di vista L'appuntamento? Il 30 aprile 2014, la notte del lavoro narrato nelle case, nelle scuole, nelle fabbriche, dove volete Qualcuno porta un libro, qualcuno racconta la sua storia di lavoro qualcuno canta un canto di lavoro, qualcuno fa un disegno e quella sera mettiamo al centro delle idee, del pensiero, della voglia di stare insieme dell'Italia, il lavoro ben fatto Quindi, vedetevi e fate girare Facebook, Twitter, Instagram, fotografie e testimonianze in modo che le possiamo anche condividere che dirvi, buon lavoro